questo è il lago di lecco proprio centro di lecco lì in fondo vediamo la ruota panoramica che è situata per il momento nella piazza di lecco lungo lago dove vai qui siamo al lago di lecco lì c'è il santo san nicola se non erro stagione estiva e quindi o quasi quasi estiva oggi il 15 di giugno è santo vito qualcuno fa il bagno abbiamo appena sentito sotto foce dove si è cacciata mia figlia questo è il lago di lecco proprio centro di lecco lì in fondo vediamo la ruota panoramica che si guarda per il momento nella piazza di lecco lungo lago dove vai anche la ruota panoramica non ti vuoi lamentare ci si fa pure il bagno nel bagno benissimo andiamo a vedere io sono solo con la borsetta e andiamo a vedere dove sono finiti marilisa e marinella qui siamo al lago di lecco lì c'è il santo san nicola se non erro stagione estiva e quindi quasi quasi estiva oggi il 15 di giugno è santo vito e si qualcuno fa il bagno abbiamo appena sentito sotto voce dove si è cacciata mia figlia e adesso vedremo come si può scendere giù intanto non si può che ammirare la bellezza del lago di lecco direi molto bianca la signorina veramente da brivite no proprio trovare una persona bianca così è proprio veramente difficile ma ce l'abbiamo qui di fronte una carnagione veramente unica e sola comunque abbiamo appena visto dov'è la discesa per andare a trovare mai